E, camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un sobbalzo nella regione pigastrico duodenale, che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Ora, sono i momenti in cui amo la polizia, e lei lo sa, e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le clark. La luna, immobile e bianca, disegna ombre allungate drittissime. Non importa. Non siamo mica qui a fare delle fotografie, eh. Cappello in testa impermeabile, chiaro che copre l'abito scurissimo. L'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare. Mi seguirebbe. Il caso cane e gatto è un esempio tipico. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro... Ed è giusto. Perché se uno scappa, deve avere una buona ragione per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare. Da solo. E in quel caso si direbbe semplicemente, corre. E se poi lui mi seguisse. Non ho voglia di correre con un cretino alle due di notte per Milano. Senza le clark. La luna è ancora immobile e bianca. Come i tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Proseguo per la mia strada. Non devo avere paura. La paura è un odore. I viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti. È chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta Non ho denaro. A titolo di precauzione. Per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non sei mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante ora è andare avanti. Deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima travessa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto o ottuso. Non importa. Non siamo mica qui per occuparci di geometria. Però sento che lo potrei raggiungere. L'angolo. E allora... Ma il nemico allunga il passo. Avanza! Ho una mia impressione. Ricordati del cane e del gatto. Anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso. Come un incrociatore. Avere l'aria di sferonarlo. Ecco così. E lui che si scosta. Disegna una curva. No. Mi punta. Siamo a dieci metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Un mazzo di fiori. Chi crede di fregare? Un coltello o un'arma nascosta in mezzo ai tulipani? E come sono furbe le forze del male? Siamo a cinque metri. E' finita. Quattro. Tre. Due. Uno. Era soltanto un uomo. Un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso come fossimo due persone. Strano. Ho avuto paura di un'ombra nella notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa che non ho pensato e che potesse essere semplicemente una persona. la luna continua ad essere immobile e bianca come nei tempi in cui c'era ancora l'uomo.